L'associazione regionale No Profit IG Passive House Calabria ha organizzato una giornata di divulgazione dello standard costruttivo Passive House caratterizzato da metodiche costruttive finalizzate al risparmio energetico. La manifestazione è dedicata agli artigiani del settore edile e nell'occasione è stato realizzato un manufatto dimostrativo delle metodiche utilizzate nella villa comunale di Cittanova. Gli artigiani, coordinati dall'ingegnere Giuseppe Pugliese e dall'architetto Pasquale Ferraro, hanno messo in pratica le nozioni acquisite durante il corso avvalendosi anche del supporto tecnico di esperti dei sistemi tecnologici eco-compatibili del settore edile. L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del comune di Cittanova e il supporto tecnico-logistico del dirigente dell'ufficio tecnico Giovanni Sergi. Il sindaco Francesco Cosentino, al fine di consentire ai cittadini di verificare da vicino un nuovo modo di costruire sostenibile, ha deciso insieme all'amministrazione comunale di mantenere il manufatto che verrà realizzato per tutta la durata dell'ottava edizione della mostra florovivaistica Cittanova-Floreale, che si terrà dal 2 al 5 giugno. Siamo a Cittanova, nella villa comunale, stanno facendo una dimostrazione sull'isolamento del termico delle case, delle abitazioni, siamo alla presenza dell'ingegnere Pugliese e dell'architetto Ferraro che ci spiegheranno cosa stanno facendo gli operai dietro di voi. Per quanto riguarda tutta la manifestazione di oggi sull'organizzazione di questo prototipo che stiamo realizzando, il collega progettista, architetto Ferraro, vicepresidente dell'associazione, vi darà tutti quelli che sono i chiarimenti di questo corso di formazione per artigiani. Cos'è IGP Calabria? IGP Calabria sta per Interess and Gamay Shaft Pass Vouse, IGP, è un'associazione regionale no profit che ha come scopo la divulgazione della cultura del costruire edifici ad alto comfort abitativo e a risparmio energetico. Oggi la direttiva europea, la 31 del 2010, ci impone che dobbiamo avere edifici con un certo criterio di costruzione. Quindi l'edificio deve essere concepito e costruito secondo questo protocollo e secondo questa direttiva e che quindi il nostro protocollo Pass Vouse che è in Germania, nella città di Darmstadt, nasce 25 anni fa con l'ingegnere Feist che inizia a costruire un edificio a risparmio energetico e ad alto comfort abitativo. Oggi noi in Calabria come associazione, questa associazione regionale vuole avere a questa ambizione di divulgare a 360 gradi quello che è la cultura del costruire edifici ad alto comfort abitativo e quindi risparmio energetico. Questo primo corso che si sta tenendo qua al sud Italia in questo contesto è stato voluto fortemente dai nostri associati, dai nostri artigiani che volenterosi di iniziare questo percorso, di cambiare un po' mi permette di dirlo quella che è stato fino adesso il modo di costruire e hanno già fatto molte lezioni di teoria e oggi qua in questo contesto adesso l'architetto chiarirà tutti gli aspetti tecnici che stanno mettendo in opera a seguito di questi giorni di lezioni che hanno fatto di teoria. Oggi la testimonianza di oggi vuol dire proprio questo, vuol dire che c'è una certa sensibilità e quindi siamo proiettati noi come regione anche verso questo modo di costruire. Tra l'altro sarà un passo obbligato, la nuova legge regionale, quella nazionale e quella europea prima ci impongono una scelta di campo. La scelta di campo è dettata proprio da questo, da un modo di costruire nuovo adottando dei protocolli, noi naturalmente abbiamo sposato il protocollo Passive House per i risultati finali che si possono ottenere, però esistono altri protocolli. L'efficientamento energetico è un elemento della sostenibilità ambientale, quindi in senso lato di tutti gli edifici del costruire che sono inseriti nella nuova legge regionale a cui dovranno fare riferimento anche tutti i comuni. Quello di oggi è una prova pratica, una prova pratica che stanno facendo i corsisti di un corso indirizzato proprio agli artigiani, agli artigiani della nostra regione ed è praticamente l'ultima giornata conclusiva di un corso che è previsto tre giornate di pratica, di teoria, voglio dire, in aula. È una prova pratica che faranno oggi che dove metteranno in pratica, come stiamo vedendo, metteranno in pratica tutto quello che hanno potuto apprendere durante il corso. Naturalmente noi parliamo di protocollo Passive House, il protocollo Passive House è quello che si sta applicando oggi, che vede l'involucro edilizio come un involucro da isolare dal punto di vista termico, un involucro che abbia una forte tenuta all'aria all'interno ma soprattutto degli infissi basso emissivi e quindi infissi di una certa qualità e poi un impianto di ventilazione, prevede il protocollo, un impianto di ventilazione controllata che mira a dare praticamente all'interno dell'abitazione quel comfort, quel comfort che finora nelle nostre case diciamo non conosciamo e quindi la qualità dell'aria all'interno dell'abitazione. C'è forte sensibilità sia dagli artigiani che dai progettisti ma anche dalla committenza che chiede un cambiamento, un cambiamento che deve essere una scelta di campo per tutti quanti. E' anche un modo efficientemente energetico, la sostenibilità deve divenire un fatto culturale nella nostra regione, importante, non a caso abbiamo pensato e anche con il patrocinio del Comune di Cittanova che l'abbiamo ottenuto e che ha sostenuto questa entità abbiamo pensato di fare questo in un ambiente, in un contesto come questo, la Villa Comunale di Cittanova che è una villa riconosciuta dal Ministero come Monumento Storico Naturistico Nazionale, quindi uno scenario fantastico e quindi di natura si parla, di ecologia si parla, di efficientemente si parla.